Che cosa sarà successo? Stiamo sigillando il perimetro. Qualcuno pensa siano stati attaccati. Da cosa? Non ho abbastanza spazio. Tu dici? Stavamo cercando qualcosa. Magari loro l'hanno trovata e non era ciò che pensavamo. Ma cosa? John, il comandante Rurk è qui in Peru. Ha ordinato alla Trinità ad isolare uno scavo sotto un vecchio po...